Noi abbiamo presentato un decreto che ha vari aspetti, poi dal Parlamento io mi aspetto tutte le azioni di miglioramento, quindi per me c'è una posizione assolutamente laica rispetto a quelle che possono essere delle azioni di miglioramento del decreto. L'unico punto per me e per noi come Ministero della Salute che rimane fermo è quello che il decreto non può venire meno agli elementi scientifici che lo hanno messo in campo.